Buonasera a tutti, un cordiale benvenuto ai presenti e come sempre un cordiale benvenuto alle migliaia di spettatori virtuali che da domani o dopo domani accederanno al nostro sito e potranno rigodere chi è presente oggi o godere della lettura della pagina cordiale che sarà fatta questa sera. Per quanto riguarda la lettrice della pagina perché le pagine cordiali non aggiungo nulla a quanto è ampiamente detto nel profilo accademico e scientifico che troverete nel sito dove sarà anche riprodotta la lezione di questa sera. Mi piace dire così un po' chiaramente che al piacere di aver avuto la professoressa Francesca Lagedini come collega come conversatrice di questa sera si aggiunge anche quello di vedere finalmente contestata quell'immagine dell'archeologo che si propone il cinema e cioè un personaggio maschio femmina muscolare che va alla ricerca di reperti molto improbabili. Ecco l'archeologia così come la intende la nostra collega e amica è scienza totale dell'antichità e ce lo dimostra proprio questo approccio che usa Ovidio come chiave universale in un certo senso per accedere da l'archeologa a quello splendido mondo dei miti che poi ha una ricaduta sulle armi interne contemporanee sulla letteratura sui mitografi rinascimentali e che ci porta a credere che il maggior poeta latino non sia Virgilio come detto e si continua a dire ma sia per l'appunto Ovidio. Ovidio l'unico poeta latino capace di far piangere e per esperienza io lo posso dire per piangere i giovani quando lo si faccia conoscere. Ma noi non siamo qui per piangere ma per ammirare e quindi lascio senz'altro la parola a Francesca Lagedini. Quanto ho? Tre quarti d'ora accademici? Tre quarti d'ora accademici? Vabbè no poveretti. Allora no io ti ringrazio moltissimo ringrazio di essere stata invitata perché questo mi ha dato modo di riprendere in mano il mio Ovidio che mi ha accompagnato, ha accompagnato i miei studi negli ultimi vent'anni. Io sono arrivata a Ovidio da archeologa e da storica dell'arte antica perché è chiaro che nel momento in cui ti confronti col mondo delle immagini che ci sono pervenute dal mondo antico non potevo prescindere da questo poeta che è il più immaginifico, il più creativo del mondo antico che con il suo dominio sulla parola e la musicalità del suo verso è capace di creare un calidoscopio di immagini che si fissa inevitabilmente nella mente dei lettori. E quindi io cercavo il rapporto fra questo mondo che lui raccontava e il mondo delle figure che circondava l'uomo antico. Ovviamente da quello, sono partita dalle metamorfosi e non poteva essere diversamente, mi sono allargata per cercare di comprendere l'uomo, il suo tempo e anche per cercare di capire perché aveva avuto questa alterna fortuna nel mondo antico e anche nella critica moderna. Perché noi dobbiamo all'intelligenza di Scevola Mariotti e di Emilio Pianezzola il recupero di Ovidio come grande poeta, come dice Maglio Pastore Stocchi, ancora più grande di Virgilio. Perché in realtà dalla critica del primo novecento era stato immarginato e considerato come un parolaio, cosa che noi adesso cercheremo di vedere non è assolutamente. E quindi ho cercato di ricostruirne la personalità ricollocandolo nel suo tempo anche per cercare di capire qual è stato il suo ruolo nella Roma augustea. Perché Ovidio non è un poeta augusteo, cioè un poeta che scrive al tempo di Augusto ma non è un poeta augusteo, nel senso non è un poeta che si mette al servizio del potere, è un poeta contestatore antelittera e questo me lo ha fatto caro immediatamente. Due parole per presentarvelo. Ovidio nasce a Sulmona nel 43 avanti Cristo da una famiglia facoltosa di rango equestre che decide immediatamente per lui di indirizzarlo alla carriera forense, alla carriera politica che era la carriera che gli avrebbe consentito di diventare un facoltoso personaggio nella Roma del tempo. E infatti da Sulmona lo mandano a studiare a Roma dove frequenta i più illustri maestri del tempo, però non c'era niente da fare. Le muse lo attiravano furtivamente e qualsiasi cosa egli cercasse di scrivere era in versi. Devo dire che cerca di accontentare il padre, un padre che gli amava molto, perché noi conosciamo molte cose di Ovidio, perché è uno dei pochi autori antichi che ci fornisce un'autobiografia personale, cioè che parla di se stesso e ci fornisce indicazioni. Lui amava il padre, ha cercato di indirizzarsi verso questa carriera forense ma poi a un certo punto ha dovuto cedere. Aveva meno di vent'anni quando per la prima volta recita in pubblico una elegia d'amore, perché l'amore di cui poi parleremo è certamente il filo conduttore della sua vita, della sua giovinezza fino alla maturità. Poi cambia un poco ma però resta un punto nodale. Il successo che egli ebbe con questa prima elegia lo convince ad abbandonare gli studi forensi e il foro irriconoscente, come dice lui, e a buttarsi anima e corpo sulla cultura umanistica, quella cultura umanistica che ancora oggi speriamo di poter coltivare, perché fa parte del, diciamo, dello zoccolo duro della nostra umanità appunto. A questo punto inizia il suo successo. È un poeta ricercato, è un poeta che frequenta le alte sfere, i salotti buoni della capitale, si lega di amicizia con Giulia Maggiore, figlia di Augusto. E questa amicizia è stata forse all'origine di tutta una serie di, diciamo, disavventure che gli capitano durante il corso della sua vita. Perché Giulia Maggiore, la figlia di Augusto, contestava il padre. Il padre, che era l'imperatore, ovviamente non non aveva, non apprezzava i liberi costumi della fanciulla, né la sua visione del mondo che si distancava moltissimo da quella di Augusto. Quindi in questo, diciamo, in questa amicizia noi possiamo riconoscere in nuce quello che lo porterà poi a quella relegazio, a quell'esilio da cui egli non si risollevò mai. Ma andiamo avanti e vediamo un attimo qual è la sua produzione prima di cominciare a raccontare dei miti che egli ha amato, di cui ha scritto e che ha fissato in una versione tale che è quella che è pervenuta al mondo occidentale. Cioè i miti che noi conosciamo sono i miti che Ovidio, ovviamente non a livello alto, ognuno poi va a cercarsi i tragici greci, piuttosto che nonno di Panopoli, piuttosto che i latini, eccetera, ma la versione vulgata della mitologia classica è quella delle metamorfosi. Ma cominciamo, poeta d'amore. Allora nella giovinezza egli scrive le gie come scrivevano tutti a quel tempo e si pone sulla scia di Gallo, Tibullo, Properzio, ma con una sensibilità per la società del tempo che è assolutamente straordinaria. Vi faccio solo un esempio. Parla più volte dell'aborto ed è una cosa che mi ha colpito. Ecco, ogni volta che leggo Ovidio ci scopro qualche cosa e l'ho letto tante volte. Cioè questa sensibilità nel raccontare, per carità, parla della sua amante, parla della pettinatrice, parla dei banchetti, ma parla anche di questo aborto che la sua amante Corinna, in cui qualcuno riconosce proprio Giulia, la figlia di Augusto, aveva fatto senza neanche avvertirlo. E allora questa frase, perché donne fate frugare con i ferri nel vostro ventre, è una frase terribile, però ci apre un mondo di sensibilità sociale che secondo me non tutti i poeti dell'epoca erano in grado di offrire. Dopo aver scritto questi libri degli Amores 5, che poi vengono ridotti a 3, si annoia e cambia genere. Una delle cose che colpisce di più di Ovidio è che continua a cambiare genere. E la seconda grande opera sua sono le Eroides. E delle Eroides mi ha colpito la sensibilità da gare l'animo femminile. Cioè riesce a entrare nelle più riposte pieghe dell'animo femminile, di donne abbandonate. Chiaramente queste lettere sono lettere tutte delle grandi eroine abbandonate o in attesa dei mariti che devono tornare, deluse, tradite, eccetera. E anche qui ci sono delle cose, me lo sono anche scritta perché volevo condividerla con voi. Sono due le Eroine che mi hanno colpito di più e sono Medea e Deianira. Medea è la Barbara Benefica, la crudelissima maga che uccide i figli per punire il marito. Ma prima di arrivare a questo c'è un passo che secondo me è straordinario. Le signore presenti forse condivideranno con me questo tipo di sensibilità. Abbandonata dall'amante per cui ha fatto tutto perché lo ha aiutato a prendere il vello d'oro, è fuggita con lui, ha ucciso il fratello per l'amante. Abbandonata dall'amante, cosa le viene in mente? Che lui con la nuova sposa parli di lei e rida di lei e dice e inventa nuove colpe sui miei comportamenti e quella ride ed è lieta dei miei vizi. Cioè questa gelosia per questa intimità che si è creata fra l'uomo che lei ha salvato. Ancora più interessante secondo me è il passo in cui il monologo di Deianira, anche Deianira abbandonata da Ercole che arriva con la nuova fidanzata. Deianira era la moglie ufficiale e si dice quando sa che sta arrivando cosa faccio? Devo inventare in fretta qualcosa finché sono in tempo e l'altra non è ancora padrona del mio letto. Faccio una scenata o sto zitta? Me ne torno a Calidone o resto? me ne vado di casa o resto a battermi per la mia causa? Cioè questa mente che cerca una soluzione in un problema che a quel tempo era femminile e penso che forse oggi può essere anche maschile perché forse la società è cambiata. Però secondo me questa sensibilità è una sensibilità assolutamente rara. Andiamo in fretta, Lars Amatoria, lo sapete tutti, è forse il più noto delle sue opere d'amore. Sono tre libri in cui si fa maestro d'amore e insegna a uomini e donne a sedurre, a lasciarsi sedurre. Ma anche qua la cosa che mi ha colpito di più è anche ad abbandonare l'oggetto di un amore è divenuto ormai importuno o oramai superato. Quindi anche queste piccole cose studia proprio i trucchi per non pagare pegno una volta che si abbandona qualcuno che si è sedotto. Nella seconda parte della sua vita passa dall'amore alla poesia civile e alla poesia epica. La poesia civile sono i fasti dove indaga le più riposte pieghe della religione latina e il poema epico sono le metamorfosi. Nell'otto dopo Cristo finché stava scrivendo queste due opere viene colpito da quella che è il vero dramma nella sua vita. Viene travolto da uno scandalo che aveva coinvolto anche Giulia Minore, non più la figlia ma la nipote di Augusto, figlia di Giulia Maggiore, che viene esiliata alle Tremidi e lui viene mandato a Tomi. Ora Tomi è l'odierna Costanza. Costanza, voi sapete, è un posto di velleggiatura dei ricchi russi che vanno lì. Ma quando Ovidio, dal luminosa Roma, dalla vita dorata della capitale, viene mandato a Costanza e deve partire in 24 ore e siamo in ottobre e il mare è chiuso, ma deve lo stesso allontanarsi dall'Italia perché Augusto non ce lo vuole più in Italia. Ora Costanza, Tomi, era al di là dei confini dell'impero romano. Era retta da un re locale che si chiamava Cotis e quindi lui si trova in un paese dove non parlavano né latino né greco, parlavano solo gettico. Voi provate a pensare il trauma, la tragedia di quest'uomo abituato a un certo tipo di vita che si trova in questo paese. Da lì scrive un centinaio di lettere desolate, disperate, ad amici, parenti in cui impetra il perdono dell'imperatore o almeno un avvicinamento. Ma questo non avviene. E avveniamo invece adesso a quello che è l'argomento della mia conversazione che è Ovidio, cantore di miti, cantore di miti d'amore, cantore di miti di vendetta. Il primo mito, i miti ovviamente sono tutti raccolti nelle metamorfosi che però non dobbiamo considerare un catalogo di miti perché le metamorfosi in realtà sono un poema cosmogonico, un poema che narra delle origini del mondo fino ai suoi tempi. E lui lo dice nell'Incipit. L'estro mi spinge a narrare di forme mutate in corpi nuovi. Odei, anche queste trasformazioni furono opera vostra. Seguite con favore la mia impresa e fate che il mio canto si snodi ininterrotto dalla prima origine del mondo fino ai miei. Quindi il mito è funzionale alla narrazione del mondo dalle sue origini fino ai tempi di Augusto. E singolarmente la narrazione dei miti, dei miti d'amore, inizia con uno degli dèi che Ovidio maltratta di più. E questo la dice lunga sui suoi rapporti con Augusto. Apollo, voi lo sapete, era il dio protettore di Augusto che addirittura aveva voluto il suo tempio costruito sulla cima del Palatino accanto, in collegamento con la sua casa. Ora, se c'è un dio che esce male dai racconti di Ovidio, questo è proprio Apollo. Apollo è l'unico degli dèi che è un fallito in amore, che quando cerca di sedurre una donna, un giovanetto, comunque non riesce a raggiungere il suo scopo. Apollo è un dio crudele, vendicativo, e quindi anche questo non sarà piaciuto a Augusto. Perché quando noi ci chiediamo perché è stato mandato in esilio, l'Arsa Amatoria certamente andava contro tutti i principi che l'imperatore aveva cercato di imporre, perché era la moralità dei costumi, ma anche il prendere in giro il suo dio protettore certamente non era un dato positivo. E questo si capisce perché la storia di Apollo e Daphne è un mito che non inventa Ovidio. Ecco, un'altra cosa che è importante che io vi dica è che Ovidio, quasi nessuno dei miti che racconta è inventato da lui. Sono fatta per pigmalione che per una certa versione di Narciso. Ma lui li prende, li elabora secondo la sua prospettiva e li racconta in un modo così affascinante che appunto è quello che poi si è fissato nella memoria collettiva. Ma proprio su Apollo e Daphne lui aggiunge qualche cosa, sempre per mettere in cattiva luce Apollo, perché racconta l'antefatto del mito. Il mito lo conoscete tutto. Tutti Apollo si innamora della bella ninfa Daphne, la corteggia, poi vedremo qualche immagine, la insegue, la raggiunge. Nel momento in cui la raggiunge, lei piuttosto che darsi a lui, chiede di essere trasformata nell'albero di alloro che Apollo sceglie come suo simbolo. Se ne fa una corona, ne orna la cetra e in un certo senso riesce a possederla per traslato, ma però non riesce a possederla in persona. Ma perché? Qual è l'antefatto? L'antefatto lo racconta questa gemma che è stata rinvenuta a Panticapeo sul Mar Nero, che mostra questo gigantesco Apollo, col suo arco e la sua cetra ben riconoscibile, e questo piccolo Eros che se ne va arrabbiato tenendo in mano due frecce. Ed è esattamente la riproduzione figurativa di quello che dice Ovidio. Ovidio ci racconta che il dio di Deilo, ancora stuperbo per il serpente abbattuto, cioè il dio di Deilo era andato a Delfi, aveva ucciso il serpente Pitone, si era impadronito del santuario di Delfi, ed era diventato uno degli dei più importanti per il ruolo oracolare del santuario di Delfi. E tornando indietro vede il piccolo Eros intento ad incordare il suo arco. Cosa fa il ragazzaccio con quell'arma da adulti? E lo manda via. A quell'arma da adulti il piccolo arco di Eros è un arco pericolosissimo, perché Eros, ora lo sapete bene, aveva due frecce, una con la punta d'oro e una con la punta di piombo. Se ti colpiva con la freccia e con la punta d'oro, ti innamoravi immediatamente della prima persona che vedevi, se ti colpiva con la freccia della punta di piombo, rifiutavi in maniera radicale qualsiasi contatto d'amore. Ed eccolo qui che se ne va con le sue due frecce, subito dopo incocca quella d'oro e colpisce Apollo, incocca quella di piombo e colpisce D'A. Ecco l'antefatto che mette il grande Apollo in una posizione negativa per l'arroganza con cui tratta il piccolo Dio dell'amore. A questo punto inizia il corteggiamento e poi la cattura della linfa. Il momento in cui, questa è una pittura pompeiana della casa di Marco Lucrezio, che mostra il momento in cui Apollo la sta per prendere e in realtà qui ancora non sta iniziando la trasformazione. Il momento in cui lei cade a terra e chiede, invoca la madre Terra e il padre Peneo di salvarla. In altre versioni invece, in altre immagini, troviamo già l'avvenuta, il momento in cui il corpo si trasforma. Vediamo questa statua della collezione borghese con il corpo, con il velo sottile che copre il corpo e i rametti che ormai si trasformano e le varie immagini di questo. Ho messo anche questa immagine perché in realtà, come ha detto bene anche Maglio Pastore Stocchi, Ovidio è alla radice della cultura occidentale. Senza Ovidio non avremmo tantissimi dei capolavori che ornano i nostri musei, le ville, gli affreschi delle grandi ville, la villa della Farnesina per esempio, è coperta da questi temi ovidiani. E allora questo mi fornisce il destro per dilungarmi un attimo su come Ovidio arriva a noi. Ovidio arriva a noi perché Ovidio ha una strana storia, la produzione di Ovidio ha una strana storia. Quando viene relegato, Augusto elimina i suoi libri dalle biblioteche perché viene colpito da ostracismo. Per fortuna gli amici le avevano, addirittura nel momento della partenza Ovidio getta le fiamme e le metamorfosi perché capiva che nelle metamorfosi c'era qualche cosa che continuava a irritare Augusto. Per fortuna, ripeto, gli amici le avevano e le metamorfosi ci sono arrivate. Dopodiché però, dopo qualche decennio dalla morte di Augusto, le metamorfosi e la poesia di Ovidio diventano fondamentali per le scuole e continuano a essere tramandate fino al IV-V secolo d.C. perché servivano per le esercitazioni retoriche e continuano a essere utilizzati nell'ambito della didattica anche dopo la fine dell'impero quando passano nel chiuso dei cenobi dove vengono copiate, dove vengono chiosate, dove vengono discusse, dove vengono interpretate, allegorizzate e quant'altro. Quindi arrivano attraverso la tradizione cristiana perché vengono copiati dagli amanuensi. Io devo dire la verità, mi sono sempre chiesta come hanno copiato i suoi versi più audaci perché ci sono alcuni passi, credetemi, che sono abbastanza... sempre con un garbo straordinario, cioè riesce a dire le cose più crude con un garbo eccezionale, però sono cose crude oggettivamente. E allora a me viene in mente, lo stanno trasmettendo adesso in televisione, il nome della rosa, questo discorso, allora il libro avvelenato, questo e quell'altro, sarà stato un libro di Ovidio, sarà stata Lars Amatoria, saranno stati gli Amores, non lo so, a me piace pensarlo ovviamente, è tutta fantasia, visto che mi inserisco sulla fantasia di Umberto Eco. Ma vi dicevo, arrivano a un certo punto dal nono, mi pare che la versione più antica delle metamorfosi che ci è pervenuta sia di nono secolo, dal dodicesimo secolo le metamorfosi, i codici delle metamorfosi sono illustrati e queste illustrazioni contribuiscono a formare la cultura figurativa comune. Dal quattordicesimo, quindicesimo secolo cominciano gli aristocratici a desiderare di avere i codici più belli, con le illustrazioni più ampie nelle loro dimore per esporli anche ai loro ospiti e le fanciulle che andavano spose amavano decorare i cassoni che contenevano il corredo nuziale con miti ovidiani. Ecco perché ho scelto questo che è un cassone di un seguaccio giorgionesco che mostra il momento del corteggiamento con Apollo qui in mezzo alla campagna, il momento dell'inseguimento e della fanciulla che inizia a trasformarsi le mani sono già divenute oramai fronde. E non potevo però non potevo non mettere questa ogni volta che mi capita di vederla ringrazio Ovidio e ringrazio Bernini perché Bernini ha saputo proprio fissare nel marmo quel momento che Ovidio descrive così bene quando le mani si allungano in rami le unghie dei piedi si fissano in lente radici le vedi proprio le unghie che si allungano e penetrano nella terra e diventano radici ma quello che a me colpisce è questa mano la mano del Dio che tenta di afferrarla ma già la scorza sta coprendo la tenera carne e lui tocca la scorza e Ovidio lo dice che appoggia la mano sulla scorza dell'albero e sente ancora palpitare la carne ecco io credo che questa cioè veramente renda come nessuna poche altre cose la sensibilità di Ovidio e quella di un grandissimo scudo ma andiamo avanti con i nostri amori e gli amori infelici di Apollo sono molti perché Apollo è un fallito non c'è niente da fare si innamora così così ce lo ce lo ce lo trasmette il nostro poeta il nostro sulmonese allora prendiamoci Paristo Ciparisto era il più bel giovane di Ceo che amava percorrere i boschi assieme al suo amato cervo e di lui Apollo si innamora si innamora ma per errore Ciparisto colpisce il suo cervo con una freccia voi vedete che qua il cervo sta praticamente colpito Ciparisto lo guarda il cervo muore e Ciparisto si dispera in vano Apollo tenta di consolarlo Ciparisto preferisce essere trasformato in un cipresso il nome ovviamente è un nome parlante in un cipresso che orna i cimiteri ornava appunto Apollo deve accettare la volontà del giovane ancora peggiore la storia di Giacinto Giacinto è un altro giovane bellissimo di cui si innamora Apollo e di cui era innamorato anche Zeffiro Apollo gioca con il giovane lanciando il disco e a un certo punto questo disco lo colpisce e il giovane muore quindi non ne parliamo poi di Coronide Coronide era una fanciulla di cui Apollo si era invaghito con cui aveva avuto un rapporto felice che stava anche dando dei frutti ma Coronide nonostante fosse incinta lo tradisce lo tradisce e il corvo va a raccontare ad Apollo che è tradito Apollo arriva la colpisce con una freccia ma in quel momento lei gli dice guarda che sono incinta fa nascere il bambino che è Asclepio ma intanto tradito e la compagna morta ancora Chione la storia di Chione è veramente boccaccesca perché Chione era una fanciulla quattordicenne di cui si innamorano contemporaneamente Mercurio ed Apollo tutti i tuoi la vedono Apollo dice beh aspetto la notte per entrare e introdurmi nella sua cameretta eccetera Mercurio che non aveva pazienza dice beh no io con la verga magica la faccio addormentare e la possiedo subito e quindi Ovidio dice e Apollo gode di un fiore già colto quindi anche quello perché lui nella notte poi ci va però anche quella gli va cioè veramente è una storia continua ma non se la prende solo con Apollo se la prende anche con altre due importanti divinità del panteon augusteo che sono Venere e Marte allora voi lo sapete Venere cos'era? La capostipite della James Giulia a cui apparteneva Augusto per essere stato adottato da Giulio Cesare quindi era un mito per la famiglia e un mito per Roma la statua di Venere una bella Venere vestita non nuda ovviamente campeggiava nel foro di Cesare e quindi era un elemento cruciale della politica religiosa augustea Marte era il capostipite del popolo romano perché attraverso lo stupro della vestale Rea Silvia perché poi questa storia di Roma e dei miti è fatta di stupri e di violenze e di prevaricazioni era diventato il padre di Romolo Remus e quindi il capostipite del popolo romano allora come li racconta Ovidio con un mito che non si inventa lui perché questo mito è già in Omero però come lo racconta lui è con quell'ironia dissacrante che è capace di mettere alla berlina chiunque allora Venere non brillava per castità si prendeva le sue belle libertà e ovviamente sposata con Vulcano che era il dio dei fabri però era zoppo e quindi evidentemente non aveva secondo i canoni della bellezza greca diciamo le qualità che potevano interessare a Venere si innamora anche di Marte e con Marte ha vari incontri e anche qua la malizia di Ovidio racconta e questa è ovidiana non è omerica questa frase racconta che durante i loro amplessi poi la dea si alzava dal letto e imitava l'andatura claudicante del marito veramente cattivo ecco dopodiché però a un certo punto il sole li scopre perché il sole vede tutto e va a fare la spia a Vulcano allora Vulcano seccato ordisce un espediente essendo il più bravo artefice dell'antichità crea questa rete sottilissima e l'appoggia sul letto quando i due amanti si distendono sul letto restano impigliati nella rete in questa terracotta alessandrina voi vedete che le catene che li legano sono molto evidenti ma me ho deciso di mettere questo quadro di Carlone perché secondo me interpreta in maniera ancora più puntuale lo spirito ovidiano perché Carlone aggiunge come diciamo racconta Ovidio tutti gli dei perché dopo averli legati nel letto il sole cioè Vulcano chiama tutti gli dei a vedere i due amanti imprigionati e c'è Mercurio e lo vedete qui che dice a Marte guarda che se stai scomodo in quella posizione ti sostituisco volentieri e anche questa secondo me è una battuta veramente un po' salace ma molto divertente non viene risparmiato da questo mondo di amori un po' boccacceschi neanche Giove anche se in verità le storie d'amore di Giove spesso finiscono bene oltre a quello della povera Callisto ma io quelle che ho scelte ne ho scelte due perché ecco i miti delle metamorfisi sono circa 250 pensavo che 250 non avevamo tempo di raccontarli per cui ho fatto una selezione allora ho scelto uno notissimo che è quello di Leda che vedremo poi e uno invece meno noto che è quello di Giove e Dio perché secondo me è abbastanza interessante per come inizia e anche per come finisce inizia come? Giove vede io che era anche questa figlia di un fiume e probabilmente sacerdotessa di Hera quindi sacerdotessa della moglie di Giove la vede passeggiare nella piana d'arco scende immediatamente dal cielo le si palesa e anche questa è una cosa abbastanza singolare perché di solito Giove possiede le malcapitate vittime usando dei travestimenti animali qui no qui si dice guarda che io sono il padre di tutti gli dèi non fuggire lei invece presa da timore forse appunto da paura anche della moglie inizia a scappare e fugge per la piana d'arco Giove la insegue ma siccome non riesce a prenderla fa scendere sulla piana d'arco una fitta nebbia che frena la corsa della fanciulla e gli consente di raggiungerla e in mezzo alla nebbia avviene il connubio ma dall'alto dei cieli Lunone vede sulla piana assolata d'arco una nebbia che grava dice qui gatta cicova io sono ingannata ed ecco anche qua ho scelto questo quadro del figino che fa vedere lei che si perché allora proprio Ovidio dice si precipita giù dal cielo e lui vede che la moglie arriva e dice cosa faccio non direi sa altro che trasformare la povera io in una giovenca e arriva la moglie che ha capito benissimo cosa stava succedendo e lui le dice ma sa passavo qui per caso e secondo me la posizione di Giove nel quadro del figino che la guarda così è proprio quello sorpreso inflagrante la moglie dice benissimo finta di niente dice beh che bella questa giovenca me la regali e lui non può fare altro che regalargliela e quindi a questo punto inizia per la povera io una serie di disgrazie intanto la moglie la prende e la dà da custodire ad Argo dai centocchi Argo dai centocchi era un mostro che non dormiva mai perché aveva gli occhi davanti gli occhi di dietro quindi lei non poteva sfuggire e poi lui la tiene prigioniera per vari giorni e qui c'è un quadro pompeiano abbastanza interessante che fa vedere la fanciulla seduta Argo in forma eroica in realtà senza nessuna indicazione degli occhi ma nella fanciulla seduta voi vedete un particolare molto interessante che è questo cornetto che le spunta vedete questa cosina bianca è un cornetto che appunto è l'elemento che consente allo spettatore di riconoscere il personaggio la vicenda di Io si sviluppa poi con varie istitudini fino a che Giove si impietosisce manda Hermes a Mercurio a liberarla e Mercurio e questo è un particolare ovidiano invece e il quadro pompeiano registra proprio un particolare ovidiano Mercurio riesce a liberarla con un espediente Mercurio lo sapete il dio dei ladri ed è espertissimo in furbizie e l'espediente è quello di riuscire a addormentare Argo usando uno strumento musicale la zampogna eccola qui che tiene proprio in mano quindi arriva zuffolando su questa zampogna Argo si incuriosisce gli dice ma cos'è questo strumento raccontami eccetera lui glielo fa vedere poi comincia a suonarlo e suona e canta e canta e suona e Argo gli occhi si chiudono in quel momento Mercurio tira fuori la sua spada e lo decapita e i cento occhi di Argo cascano tutti per terra Giunone cosa fa? Giunone li va a raccogliere e li mette dove? sulla coda del suo ecco la storia degli occhi del pavone della coda del pavone intanto la povera Io scappa ancora in forma di giovenca arriva fino in Egitto e lì Giove la grazia la fa ritornare fanciulla era incinta però ecco la cosa che non vi ho ancora detto è che io in quel momento era incinta e arrivata in terra di Egitto si sgrava del frutto dell'amore di Giove che è chi? è Epafo che è il fondatore della dinastia dei Tolomei questo è molto importante per la figura di Io perché Io da quel momento viene accolta nella cerchia isiaca ecco qua che il Nilo la porta nel santuario di Iside Io diventa parebra di Iside ma soprattutto diventa un modello per le principesse tolemaiche e anche per le auguste imperiali perché il fatto di essere diventata la madre del fondatore di una dinastia fa sì che spessissimo le dame sia tolemaiche che imperiali si siano fatte rappresentare con questi cornetti che erano i cornetti che identificavano il personaggio come Io quindi fondatrice di dinastia con Leida la cosa è molto più semplice e molto più tradizionale Giove per possederla si trasforma in cigno finge di essere inseguito da un'aquila si rifugia nel suo grembo e anche qui tanti figli i due dioscuri Elena Crittenestra e la cosa che a me che avevamo messo anche in mostra era questo particolare perché questa è una bellissima statua che poi è qua a Venezia al museo di Venezia questa è una copia leonardesca di una lei da colcigno ma la cosa straordinaria è questo cammeo che riproduce secondo me in maniera puntuale i versi di Ovidio Ovidio cosa dice fece Leida giacere sotto le ali del cigno qua la fanciulla che giace sotto le ali del cigno che la sta possedendo va detto però che anche gli dei possono soffrire e una grave sofferenza tocca proprio a quella Venere che abbiamo visto impegnata in una boccaccesca avventura tocca a Venere perché si innamora di un personaggio che era segnato dallo stigma del peccato allora in questa immagine vediamo sulla destra una scena di Venere che abbraccia Amore esattamente come lo descrive Ovidio dice Amore abbracciando la madre la ferisce leggermente su una spalla e Venere in quel momento vede Adone e si innamora di lui ma perché vi dicevo che Adone era colpito dallo stigma del peccato Adone è il figlio di Mirra la storia di Mirra è una delle più crude di tutte le metà assieme a quella di Biblide ma peggiore quella di Mirra ed è una delle più diciamo immaginifiche e legate a una rappresentazione teatrale Ovidio quando parla di Mirra scrive una pièce teatrale Mirra si innamora del padre Cinea e ovviamente l'incesto era condannato allora come oggi e la ragazza si strugge a un certo punto addirittura cerca di suicidarsi perché capisce che non può raggiungere l'oggetto del suo amore la sua nutrice sapete che la nutrice è una macchina di tutti i racconti antichi la nutrice la coglie nel momento in cui sta per impiccarsi la costringe a raccontare le motivazioni di questo suo desiderio di morte e le dice stai tranquilla figlia mia ti aiuto io durante le feste di a me pare era proibito alle mogli giacersi con i mariti allora la moglie di Cini era del re padre di Mirra se ne va e il suo letto resta vuoto nella notte nel buio panza buia del re la nutrice accompagna verso il talamo del re a cui aveva detto guarda c'è una fanciulla del paese che vorrebbe tanto giacersi con te lui dice vabbè portamelo però deve restare tutto al buio Mirra si giace col padre resta ovviamente immediatamente incinta e questa cosa continua per qualche notte fino a che a re Cini gli viene la curiosità di capire con chi si stava accoppiando accende una lucerna e come vede la fanciulla cerca di ucciderla perché trova una cosa terribile ecco qua in questo affresco da torma arancia è il momento in cui Mirra scappa Mirra scappa comincia a scappare se ne va abbandona ovviamente la sua casa la sua patria e fugge 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 fino a che gli dei pietosi accolgono la sua preghiera e la trasformano nell'albero di Mirra l'albero che piange lacrime odorose ma dentro il ventre di Mirra c'era il bambino ed ecco in questo bellissimo manoscritto in questo quadro di Sebastiano del Piombo il momento in cui le ninfe estraggono dal tronco dell'albero di Mirra il figlio e nasce questo Adone che era il più bello dei di Adone vi dicevo si innamora Venere però era chiaro che Adone avrebbe dovuto avere una fine tragica e infatti nel momento in cui Venere lo lascia per tornare al suo santuario Adone viene colpito dal cinghiale e muore dissanguato e questo quadro di Giuseppe de Ribera secondo me straordinario anche questo interpreta un passo di Ovidio che dice e Venere sente il lamento del giovane torna di corsa e con un balzo lo raggiunge ma troppo tardi perché oramai Adone è morto e dal sangue che sgorga copioso dalla ferita Venere e sul sangue Venere versa un nettare odoroso e dal sangue solge l'anemone Imero i cui petali il vento disperde che vive poco tempo così come poco tempo aveva vissuto allora amori abbiamo visto amori crudeli amori impossibili amori contrastati non potevo non parlarvi di piramotisbe perché piramotisbe sono i capostipiti di tutti gli amanti infelici due sono i Giulietta e Romeo dell'antiquità vivevano in case vicine ma non si potevano frequentare perché le famiglie non consentivano loro di frequentarsi e quindi decidono di incontrarsi nella notte presso il sepolcro di Nino e in questo quadro pompeiano noi vediamo la colonna con il vaso in cima che è un indice chiaro di un'area necropolare i due arriva prima lei arriva prima lei che aveva una bellissima sciarpa di velo eccetera ma nel momento in cui arriva arriva anche una leonessa che aveva appena ucciso un capretto la ragazza scappa perde la sciarpa la ragazza si nasconde in una grotta ma la leonessa con gli unghioni sporchi di sangue tocca la sciarpa e quando Piramo arriva crede che la ragazza sia morta allora comincia a lamentarsi ma come ho potuto abbandonarti eccetera e si trafigge con la spada in quel momento torna anche Tisbe e anche Tisbe si sistemò sotto il petto la punta poi si buttò sulla spada ancora calda di morte i due si suicidano sotto un gelso e la metamorfosi in questo caso è quella delle more del gelso e da bianche diventano rosse ecco allora che mi è piaciuto mettere vicino alla fresca Pompeiano questa straordinaria diciamo miniatura dell'Ovidius Moralizatus del 1493 che fa vedere i due protagonisti esattamente come facevano in quel tempo vestiti con i vestiti dell'epoca fa vedere la leonissa fa vedere Tisbe nascosta in mezzo agli alberi ma fa vedere soprattutto il momento in cui le more del gelso da bianche diventano rosse tra gli amori impossibili c'è certamente quello di Narciso Iso è uno dei personaggi di Ovidio che ha avuto maggiore fortuna e che si è fissato nell'immaginario collettivo proprio come diciamo l'emblema dell'amore sbagliato dell'amore deviato di un amore verso se stesso che è evidentemente il contrario di quello che deve essere l'amore generoso anche qui la storia è lunga alla nascita di Narciso l'indovino Tiresia dice alla madre che il fanciullo avrebbe avuto una vita felice si se non noveri se non si conoscerà se non si sarà visto se non avrebbe visto la sua immagine Narciso cresce bellissimo anche lui fino a che un giorno durante la caccia si stanco si avvicina a una fonte vede il suo volto e si innamora di se stesso ecco che qui abbiamo due questo è un disegno disunto da un quadro pompeiano due affreschi pompeiani che fanno vedere il momento in cui il ragazzo si sporge sulla fonte vede se stesso ed è perduto ed è alla base di uno dei più cerebri quadri caravaggesco non lo so so che qua c'è una grande discussione ma comunque è quella del Narciso che si specchia e la cosa che mi piaceva sottolineare è che tutti noi conosciamo questo quadro è entrato nelle discussioni degli specialisti eccetera ma questa posizione non è un'invenzione di Caravaggio o del suo autore ma è un'invenzione di Ludovico Dolce che nella sua diciamo metamorfosi illustrata raffigura il Narciso non come l'abbiamo visto nei quadri pompeiani ma proprio con queste mani appoggiate a terra che si sporge sulla fonte esattamente come il Narciso di Domenichino e come il Narciso Caravaggio tra gli amori impossibili quello di Ermafrodite è uno dei più celebri Ermafrodite è un racconto del mondo alla rovescia il mondo alla rovescia cosa vuol dire Ermafrodite lo dice il suo nome è il figlio di Ermes di Ermafrodite ed è certamente bellissimo come protagonisti dei nostri miti è bellissimo però decide di viaggiare da solo di visitare il mondo a un certo punto arriva presso la fonte salmacide ad Alicarnasso la fonte salmacide era presieduta da una ninfa che si chiama omonima la ninfa salmacide che a differenza delle ninfe che di solito rifiutavano gli amplessi era invece una che desiderava il rapporto sessuale e del giovanetto si innamora perdutamente di lui lui è ritroso l'allontana lei finge di allontanarsi e appena vede che lui si getta nelle acque si getta anche lei e lo avvolge strettamente e lo possiede e Ovidio dice così si accoppiarono i corpi dentro all'amplesso tenace e non sono più due ma una duplice figura impossibile a dirsi donna o ragazzo che ha l'aria di nessuno dei due e di tutti e due Belem ha fottito che ci sia pervenuto dall'antichità e certamente la statua oggi conservata al Museo Nazionale Romano che mostra questa fanciulla addormentata e dall'altra parte se uno gira trova un fanciullo addormentato quindi è veramente l'unione dei due sessi in un'unica figura vado avanti in fretta perché penso che di aver quasi la vostra pazienza solo per un accenno sulla seconda parte della mia chiacchierata che doveva raccontare dei miti di vendetta i miti di vendetta accanto ai miti d'amore troviamo i miti di punizione e appunto i miti di vendetta gli dei si vendicano gli dei non sono dei generosi gli dei puniscono si vendicano con vendette anche atroci e una delle vendette atroci è quella della strage dei figli la strage dei figli di Niobe vabbè allora com'è la storia Niobe è una bellissima donna che è molto fiera della sua bellezza e della sua origine che ha avuto 14 figli e a un certo punto si vanta di questi di questi suoi figli e si paragona alla tona che è la madre di Apollo e Diana che ne avevano avuti soltanto due allora la tona chiama i figli e dice vendicate la mia l'offesa che mi è stata recata e Diana e Apollo corrono e cominciano a uccidere prima i sette figli maschi che si esercitavano nella pianura vicino a Tebe e poi le sette figlie fede ed è una strage ed è una strage crudelissima fino alla fine quando Niobe finalmente doma perché durante tutta la prima parte Niobe continua a dire dopo la morte dei sette figli comincia a dire beh ma me ne restano ancora sette le mie sette figlie ne ho ancora più di Te cioè quindi la protervia poi alla fine invece si lascia lascia andare ne restava ancora una con tutto il corpo e tutta la veste la copre lasciami l'ultima grida la madre è la più piccola chiedo solo la più piccola lei sola e mentre prega colei per cui prega questa è una statua probabilmente copia romana di un'opera di Scopas che mostra il momento in cui Niobe abbraccia la bambina cercando di proteggerla in vano con il suo corpo con il suo manto e qui invece c'è il quadro di Camassei che coglie lo stesso momento con la mano della madre che si appoggia sulla testa della figlia Diana non è da meno perché anche Diana si vendica si vendica in maniera crudelissima e tutto sommato ingiusta e questo è uno dei pochi passi in cui Ovidio si lascia andare a un giudizio particolare sulla dea dice Diana in questo caso fu più spietata del giusto com'è la storia di Atteone Atteone era un cacciatore della stirpe di Cadmo stirpe maledetta perché inizia con l'uccisione del serpente di Marte che sta cacciando a un certo punto si allontana dai percorsi conosciuti e in maniera involontaria si imbatte in una grotta dove Diana si stava bagnando Diana era l'eccellenza lui la vede nuda Diana si le ninfe cercano di farle scudo con il corpo ma Diana si adombra prende l'acqua con la mano la getta sul volto di Atteone e gli dice adesso vai a raccontare che mi hai vista per il momento Atteone si trasforma in un cervo ed ecco che qui abbiamo il momento in cui Diana si bagna Atteone la vede Atteone è già trasformato in cervo e attaccato dai suoi cani e questo è bellissimo questo quadro del Sodoma perché fa vedere veramente la dea che afferra l'acqua e la getta sul corpo del malcapitato ma lui che colpa ne aveva e infatti Ovidio dice che colpa c'è nell'aver avuto occhi ecco questa frase e il giudizio che lui dà su Diana ha alimentato tutta la diciamo la curiosità degli studiosi moderni perché fra le colpe di Ovidio lui dice io ho visto qualcosa che non avrei dovuto vedere noi non sappiamo che cosa ha visto però questa sua difesa di Atteone ci fa pensare che abbia visto involontariamente qualcosa che Augusto non poteva perdonare e quindi in questo caso c'è una sorta di identificazione di Ovidio con il povero Atteone adesso io mi avvio verso la fine saltando Icaro e Fetonte perché se no mi dilungo troppo perché c'è un'altra cosa che io voglio dire di Ovidio noi abbiamo chiuso la mostra con una sala dedicata a Ganimede Ganimede è uno dei pochi mi 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 che viene portato in cielo diventa immortale immortale e diventa diciamo il coppiere degli dei ora Ganimede viene portato in cielo secondo la vulgata perché Giove si era innamorato di lui perché era molto bello ma c'è un passo di Platone che attribuisce a Ganimede oltre alla bellezza anche la saggezza l'intelligenza la 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 bontà quindi una serie di qualità che secondo me fanno sì che Ovidio potesse vedere in Ganimede e nelle apoteosi di Ganimede un qualche cosa che sarebbe toccato anche a lui perché è con questo che voglio chiudere voglio chiudere sottolineando una cosa l'orgoglio del poeta un orgoglio che sfiora l'arroganza in qualche caso lui fin dalla giovinezza nei primi libri dell'Eneamores quando dice a Corinna il tuo nome sarà immortale perché io ti ho cantato e poi dice ai Peligni al popolo da cui lui proveniva a Sulmona dice il vostro nome sarà celebre esattamente come Virgilio ha reso celebre Mantova e come Catullo ha reso celebre Verona e poi quando in esilio disperato questo esilio che lui veramente non tollera in esilio lui scrive alla moglie e sente la morte che si avvicina le dice un'ombra romana vagherà tra le ombre dei Sarmati cioè si vede defunto e lontano da Roma anche in questo caso ma poi lo scatto d'orgoglio cos'è tuo non sarò terra dice perché il mio spirito sarà immortale e con questi versi chiude le metamorfosi ho ormai compiuto un'opera che non potranno cancellare né l'ira di Giove né il ferro né il fuoco né il tempo divoratore e quando verrà quel giorno che porrà fine la durata della mia vita la parte migliore di me mi trasporterà più in alto delle stelle e il mio nome resterà indelebile e dovunque si estende la potenza di Roma sulle terre domate sarò letto dalla gente e per tutti i secoli grazie alla fama se c'è qualcosa di vero nelle profezie dei poeti vivrò e vivam è l'ultima parola delle metamorfosi ha ragione perché siamo ancora qua che stiamo parlando di lui grazie grazie a tutti che io aggiunga qualcosa a questa splendida lettura mi sembra del tutto inopportuno perché mi permetterò di dire che quando questa lettura sarà visibile in rete mi permetterò di indicarla agli altri oratori delle pagine cordiali perché prendano regola e norma sia di grazia nel porgere ma anche per quel rapporto empatico che è fondamentale per capire un autore che qui abbiamo avvertito veramente nel rapporto fra l'oratrice e Ovidio quindi io non posso che a titolo strettamente personale ringraziarla anche per un'altra ragione da medievalista ho ripercorso quella che nel medioevo si chiamava letas ovidiana cioè veramente quella fase della cultura medievale che non in Virgilio ma in Ovidio ha visto il maestro la guida l'esempio un'altra esperienza che molti di noi credo avranno fatto in contrapunto abbiamo riletto Dante perché non c'è mito fra questi che sono stati così empaticamente presentati a noi oggi che non abbia il suo riscontro in versi danteschi certo Dante ammira Virgilio se ne fa maestro educa nelle prime due cantiche della commedia accoglie il pensiero di Virgilio e fa di Enea figlio di Venere ovviamente il capostipite del seme latino che è alla base poi anche del pensiero politico moderno di Dante ma direi che non c'è un punto della divina commedia in cui possiamo dire che Dante si sia commosso leggendo Virgilio mentre abbiamo per esempio ecco ecco il cielo Virgilio lo ammira lo ama lo rimpiange quando sparisce però si commuove sui miti ovidiani addirittura su Mirra di cui ricorda la colpa ma la ricorda con una sobrietà con una così con una pudore direi e non parliamo poi degli amanti infelici che in da ecco quindi mi pare che la lezione che per primo io ho colto e faccio e faccio mio frutto personale di questo pomeriggio è che leggere ovidio significa in un certo senso ripercorrere ogni volta i poeti ripercorrere gli artisti la pittura la scultura e quindi è veramente ovidio il padre della cultura post antica e in particolare e qui torno la mia fisionomia professionale quegli ultimi versi delle metamorfosi sono il manifesto dell'umanesimo cioè l'idea che la fama vinca il tempo e che la fama sia soprattutto quella dei poeti ecco è in parte Orazio ma molto più vigorosamente presente in ovidio ed a ovidio è raccolta se ne trovano negli umanisti del quattrocento infinite riprese e quindi oserei dire che oggi abbiamo avuto tre al prezzo di uno in un certo senso cioè non solo ovidio ma dante ma la cultura umanistica ma la nostra grande tradizione culturale e per queste triplici ragioni ringrazio per triplicata volontà Francesca Ghedini ci sono domande richieste di chiarimento ecco ben dica il suo nome perché ecco perché sono registrate queste a proposito dell'insinuazione in senso tecnico che lei fa a proposito della traduzione tradimento insomma di ovidio da parte del cristianese della cultura cristiana che lo ha trasportato fino a noi mi chiedevo se trappela qualcosa di questo di questo diciamo tradimento che eventuale che sia stato fatto io forse forse mi sono espressa ma non credo che sia un tradimento io penso che la cultura cristiana abbia intanto ammirato il poeta il grande poeta poi c'è tutta la lovidius moralizzatus è il tentativo di allegorizzare in chiave cristiana tutta la sua opera poi risponde lui meglio di me perché questa è sicuramente più materia sua per quello che ho capito io è semplicemente che nella prima fase vengono semplicemente ricopiati e discussi poi a un certo punto c'è questo tentativo di introiettare ovidio dentro il cristianesimo che però resta abbastanza superficiale quello che a me colpisce è che questo tentativo di introiettare ovidio nel cristianesimo c'è soprattutto nelle metamorfosi ma gli amores loro continuano a copiarli e credetemi sono dei testi forti quindi evidentemente li copiano per ammirazione nei confronti del poeta e forse per tramandarli o per discuterne può darsi che sulla base di quei versi avvenissero delle discussioni di carattere moralizzante però io questo non lo so non so se il mio dotto amico ne sa più dire effettivamente rimane quasi una sorta di esperienza parallela che rimane per così dire una specie di ramo morto della fortuna di Ovidio perché la stessa fortuna porta da un lato a delle moralizzazioni a volte ridicole uno che ha scritto delle moralizzazioni decisamente ridicole è quel Giovanni del Virgilio che entra in corrispondenza con Dante un dotto maestro contemporaneo di Dante che ha tenuto un ampio commento delle metamorfosi che purtroppo è ancora in gran parte inedito ma per esempio dell'episodio di Mirra dice sì vabbè quello è un albero orientale e Adonis è il nome che in Oriente si dà alla resina che diventa nulla insomma Dante non ci casca naturalmente quindi poi l'idea che fosse possibile una censura di tipo moralistico in in quei cenobi in quei monasteri in quegli scrittori in cui si trascrivevano i classici è un'idea del tutto infondata se noi pensiamo che gli epigrammi di Marziale che altro che Ovidio ecco hanno una tradizione che risale al monastero benedettino di Monte Cassino Apuleio viene scoperto nel 300 in un manoscritto le metamorfosi l'asino d'oro di Apuleio è un manoscritto che era cassinese ed è l'unico manoscritto che conservi un episodio osceno che in altri rami della tradizione non compare cioè il codice dei benedettini c'ha il famoso sporcissimus aditamentum sporcissimum aditamentum che altri hanno tagliato e lì c'è insomma quindi copiavano ma poi anche il Medioevo era antico era antico era l'autoritas qualunque cosa è antico magari si mettivano le braghe agli affreschi di Michelangelo ma non alle statue antiche insomma è così prego di letto imitato e questo non sarebbe possibile se non ci fossero numerose imitazioni dell'ovidio minore perché le metamorfosi venivano dette l'ovidio maggiore anche per l'impegno del poema e per la sua lunghezza e ci sono infinite poesie che imitano proprio l'erotismo ovidiano beh c'è lo pseudo ovidio medievale c'è tutta una serie di testi la vecchia sì ce ne sono i Carmina licenziosi e quindi ovidio ha alimentato il Medioevo non è solo religione dura e pura per dirla con una formula insomma e ovidio ha giocato un ruolo fondamentale qui posso fare una testimonianza in Corpo Revili laureato da poco io ero in studiavo Boccaccio perché il mio maestro Vittorio Abranca era e in Boccaccio in una novella del Boccaccio si descrive una posizione di accoppiamento che i commentatori non capivano allora mi sono messo in testa di spiegarla questa perché lui attribuisce una certa posizione a quella dei cavalli di partia dice ma cosa c'entrano i cavalli di partia ecco e finì per trovarla proprio non tanto negli amores di ovidio quanto in un volgarizzamento medievale degli amores in cui ovidio parla di quella posizione ma riferendosi al cavaliere parto che saetta all'indietro non sto a dare spiegazioni ulteriori cioè eques il cavaliere il traduttore medievale traduce equus e allora attribuisce questa posizione ai cavalli di partia che non c'entrano nulla voglio dire insomma anche in questo caso c'è questa presenza sotterranea di un'altra presenza che non riguarda i miti tutti conosciamo leopardi ci commuoviamo ma chi legge alla primavera e alle favole antiche se la sarà sentita tornare in mente da quello che ci è stato detto quando dice leopardi gli antichi quando abbracciavano un albero sentivano la ninfa la carne viva sotto la scorza e oggi per fortuna abbiamo visto che questo ha un riferimento preciso ecco l'abbiamo imparato d'ora in poi bisognerà fare la nota a quel passo di leopardi un altro caso che non è mitologico la figura che in parte poi è mitica nella sua ricostruzione la figura di Saffo fino alle scoperte dei papiri non si sapeva quasi niente della poesia di Saffo cioè la Saffo che si conosceva era quella che scrive l'epistola a faone nelle eroides e quanto ha prodotto l'ultimo canto di Saffo di leopardi non è basato sui fragmentari è basato su video insomma per dire che oggi abbiamo fatto e ti ringrazio ancora per questo perché io stesso non ero preparato abbiamo fatto questa specie di sintesi della cultura occidentale poetica figurativa e Ovidio è al centro di tutto anche un altro aspetto che è stato citato mi permetto di dire queste cose per sottolineare quanto dobbiamo e quanto dobbiamo ricordare di ciò che ci è stato detto Ovidio dice suo padre voleva che scrivesse le allegazioni forensi dice io ci provavo anche ma qualunque cosa l'hai citato erano versi ecco personalmente ho utilizzato questo passo di Ovidio un po' come dire anche un po' furbescamente per sostenere che la metrica non è qualcosa di aggiunto all'ispirazione poetica ma il metro è connaturale e ce lo dice Ovidio ecco non avevo mai pensato che fosse così lui voleva scrivere in prosa invece scriveva in versi quindi il metro è qualcosa del poeta c'è una cosa che a me ha colpito che non ho detto lui finisce la vita in mezzo ai getti e impara a poetare in getico e i getti gli attribuiscono una corona di poeta una corona dall'oro e l'esenzione delle tasse è talmente connaturato in lui la musicalità che impara a poetare in una lingua straniera lontana barbara ecco quindi questo per me è una cosa straordinaria vabbè ha preso un tono abbastanza apologetico ma insomma credo che Ovidio lo meriti e ci sia bisogno sono innamorata di lui ma questo si è capito e chiunque poi abbia tutt'altra formazione cioè sia medievalista e non può che convenire insomma Ergilio è un monumento però così dica il suo nome Gianangelo Parvierato mi sento un po' imbarazzato non essendo dalle ultime parole Ovidio che si esprime che esprimeva la sua poesia in metrica attualmente di metrica nella poesia attuale o appena precedente di metrica non se ne parla io ho letto un articolo di un cui non ricordo che diceva la discesa intendendo come qualità di produzione della poesia della poesia da metrica a non metrica anche oggi leggevo un articolo sul Corriere della Sera in cui parlava di poesia e praticamente addombrava la mancanza di metrica nelle composizioni poetiche attuali che cosa pensate a riguardo? io sono ignorantissima quindi la mia sensazione a me la poesia piace quando ho un ritmo quando diciamo quando c'è musica dentro la poesia però non sono in grado di dare giudizi perché non ho competenza sufficiente perché l'articolo sul Corriere della Sera di oggi parlava proprio di questa possibilità di dare ritmo nell'espressione dei propri pensieri la versa quando manca metrica se ne coglie è più difficile poi la poesia può cioè il piacere della lettura di una poesia senza ritmo ci può essere per l'intensità della parola dei contenuti eccetera però io che appunto vengo da una cultura classica e che ho imparato a leggere in metrica devo dire che lo stesso video letto in metrica ha una musicalità che è straordinaria a me il ritmo piace però non è un'affermazione diciamo competente è una semplicemente una mia ecco sentiamo qualcuno che è più competente di me velocissimo Cerruti beh la musica rap in qualche modo può essere l'inizio chissà di una riscoperta della metrica c'è il professor Bruni che aveva chiesto di quello sperimentalismo che ha portato a mettere via la metrica però c'è speranza perché l'endecasillabo viene fuori anche inconsapevolmente spontaneamente ed è il metro principe della poesia italiana facciamo endecasillabi anche se Ovidio se ne accorgeva di fare distici o esametri noi no però li produciamo anche senza pensarci questo conferma che la metrica non è un fatto esterno esterno che si aggiunge ma è inerente alla struttura all'intuizione posso aggiungere che non è vero che la metrica sia scomparsa è scomparsa l'idea che la metrica debba essere come dire istituzionale si è affermata l'idea che ogni poeta crea la propria metrica ma c'è la metrica se uno legge montale si accorge che montale usa dei metri solo che non sono i metri che si trovano nel manuale di metrica sono i metri che è un suo ritmo ecco fra l'altro c'è una poesia di montale in cui è evocato molto diciamo alla lontana proprio il mito di Atteone nella reggia di Caserta perché lì c'è raffigurato nella fontana c'è tutta la fontana ora scusate io mi sono occupato di recente la settimana scorsa in un convegno di questa faccenda nessuno di noi si accorge che i promessi sposi cominciano con un novenario quel ramo del lago di Como è un novenario perfetto come quelli di Pascoli la cosa strana è che Fogazzaro un altro lago comincia il piccolo mondo antico con un novenario soffiava sul lago una breva stesso vedete lo stesso ritmo ed è un novenario posso citare interi brani di Boccaccio della prosa del Boccaccio che sono sequenze di Endè Casilevi parla di delle ragazze narratrici del Decamero che a un certo punto fanno il bagno e si tuffano in una fontana di acqua limpidissima la qual non altrimenti lì loro corpi candidi nascondeva che facevasse una vermiglia rosa un sottil vetro sono tre perfetti Endè Casilevi ed è la prosa architettonica del il metro è essenziale è interessante un altro esempio tutti considerano così artificioso certe soluzioni di Virgilio c'è un famoso verso di Virgilio citato un po' così per dire facile è una matopea descrive lo scalpitare dei cavalli su un campo intriso di sangue della battaglia l'Endè Casilevo è un scusate è un esametro dattilico perfetto quadrupe danze putren sonitu quati tungula campum ora pensate di sentirlo così e sentite lo scalpitito dei cavalli ecco e quindi quando lui non è che è stato lì a pensare adesso faccio un esametro dattilico perfetto ha sentito lo scalpitito dei cavalli e gli è venuto daltrondo ci sono poeti contemporanei che fanno un uso funzionante della rima pensiamo a Giorgio Caproni per esempio usa le strofette metastasiane addirittura non è vero che la metrica sia morta sia trasformata anche Uvidio penso ha trasformato la metrica quando lo posso dire lo puoi dire tu forse oltretutto la cosa che a me mi ha sempre colpito è il fatto che lui scrive un poema epico in l'esametro il pentametro come si chiama i listi è fuori da ogni da ogni mondo scrivere un poema epico con quel metro però lui lo fa sicuramente è un innovatore anche in questo non parliamo poi insomma nessuno pensa che le ultime lettere di Jacopo Ortis siano debitrici delle roides vabbè voltate al maschile ma se non ci fosse state le roides Foscolo non avrebbe scritto le ultime sicuramente le ultime lettere di Jacopo Ortis grazie a voi grazie